Ben ritrovati a tutti a un nuovo episodio di Camaleonte Errante. Allora oggi abbiamo ospite Edoardo Taori. Ciao Edo. Ciao a tutti, ciao Andrea. Camaleonte Errante, chi più di Edo può rappresentare questo camminare, questo errare. Soprattutto iniziamo da un punto. Dove sei in questo momento? Allora io mi trovo in Sicilia, siamo a Punta Secca, si chiama questo posto, quindi dal nome potete già capire che è un posto molto caldo, quindi uno dei più caldi d'Italia. Quindi in Sicilia, nella Punta Sud, siamo più bassi di Tunisi, in provincia di Ragusa siamo. E mi trovo qui perché con Kika, la mia compagna, eravamo in viaggio in camper, stavamo quindi passando per la Sicilia e poi volevamo andare in Sardegna. Diciamo che erano circa dieci giorni che eravamo arrivati in Sicilia dopo un qualche settimana in Calabria e poi è successo quello che è successo. Quindi con il decreto per il coronavirus non ci si può più spostare, quindi siamo obbligati giustamente a rimanere qui in un campeggio e però ci sentiamo dei fortunati perché abbiamo a disposizione un intero campeggio per camminare nella natura, abbiamo la spiaggia a pochissimi metri e siamo quindi molto contenti e fortunati a stare qui. Siamo riusciti a mantenere un contatto forte con la natura che è quello che ci nutre, quello che ci permette di stare bene, sani di mente, in corpo e quindi siamo grati a questo fatto che siamo riusciti insomma a mantenerci a contatto insomma con con madre natura. No, questo è importantissimo, tra l'altro ho visto che dalle vostre storie su Instagram avete anche un cagnolino con voi, siete interessi. Sì, abbiamo Iride, abbiamo Iride che è il nostro cane che ci segue con noi nei nostri viaggi in camper. Nei nostri viaggi solitamente condividiamo sia un po' quel che succede, le avventure che ci capitano, hanno lo scopo soprattutto di far vedere la natura che incontriamo, quindi far conoscere piante, alberi straordinari e far sentire la loro musica. Ecco, adesso arriviamo però, c'è tutto parte diciamo come spesso a causa delle passioni, anche nel tuo caso comunque la musica è sempre stato un minimo comune denominatore, poi anche quegli studi universitari, musicologo, quindi tutto è partito proprio dalla musica e una cosa che mi ha colpito di quello che mi hai mandato, fin da piccolo cerca di scoprire di cosa è fatta la realtà. Questa frase mi è piaciuta tantissimo. Sì, 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 io ho i ricordi che ho da piccolo, sono più che ricordi le consapevolezze, perché ci sono i ricordi e ci sono quelle sensazioni, quelle scintille che ogni tanto tornano nella mente e dicono, ah ma io quando ero in quella situazione così piccolo già mi resi conto di questa cosa o quant'altro. Io fin da piccolo sono stato sempre molto lucido, molto consapevole di dov'ero, che stavo facendo e cercavo sempre di capire come funzionasse il mondo, quindi mi sono sempre appassionato alla fisica, alla matematica, all'astronomia, a sei anni mi feci regalare un telescopio e stavo le notti intere sul balcone a vedere la luna, le stelle e ricordo la prima volta che riuscii a inquadrare la luna, ho questo perfetto ricordo con il telescopio che stavo lì, guardavo, ma per tante sere vidi l'ombra della luna, ovvero con i telescopi se non sei perfettamente allineato all'oggetto, specialmente quelli piccoli, vedi delle ombre che la prima volta, e tu non lo sai, sembrava quella, faccio wow, invece quando mi accorsi per la prima volta che non era quella e la stavo vedendo veramente, fu un'esplosione di gioia, faccio oddio sto vedendo la luna, sono stato giorni a vedere un riflesso, cavolo, questo per dirti che mi sono sempre interessato a come era fatto quello che mi circondava, chi ero io, ho fatto tanta sperimentazione su di me per capire poi che stavo facendo qui e anche per superare tante paure, perché chiaramente con la conoscenza ho capito che potevo superare i miei limiti, le mie paure, insomma. E quindi del tuo passato di musica eri un, cos'è, un rocchettaro, un discotecaro? Eh, ho passato tante fasi, diciamo che la musica è proprio un, come dire, rispecchia un po' tutto il percorso nelle mie fasi di vita, no? La musica che ascolti, la musica che apprezzi, anche perché la musica è talmente potente che ti veste, ti fa pensare, ti cambia, ti fa entrare in dei mondi. E io ho cominciato, insomma, guarda, la prima, la prima mia esperienza di, eh, come musicista live l'ho fatta in chiesa, praticamente come suonavo in chiesa nel coro del mio paese. Mi sono nato a un paesino arcinazzo romano di, di mille anime, molto piccolo, in montagna, tra Lazio e l'Abruzzo, e cominciai quindi a suonare la chitarra e il maestro, eh, era anche il maestro del coro, del, della chiesa e quindi feci alcuni anni a suonare, insomma, nel coro della chiesa e mi divertivo, mi piaceva molto. Poi, l'età della pubertà, quindi, diciamo, eh, l'andare contro al sistema, a qualsiasi cosa, a qualsiasi insegnamento, eh, cominciai a fare i primi gruppi rocchettari, metallari, eh, di grange con, con, con gli amici del paese. Quindi ci esibivamo delle sacre di paese, addirittura registrammo un album, insomma, ci divertivamo molto. E, e poi arriviamo alla fase universitaria. Eh, in tutto questo, diciamo, prima di arrivare all'università, io ho fatto sempre molto sport. ehm, mio padre mi ha, eh, come dire, mi ha insegnato ad andare in bicicletta a tre anni e fino a diciannove anni, diciotto anni, non ci sono mai sceso dalla bicicletta, perché ho fatto ciclismo agonistico. Facevo proprio le gare e, insomma, nell'età della pubertà arrivavo a fare anche tre, quattro, cinque ore di allenamento. Quindi avevo, correvo con squadre dove ci spostavamo spesso, facevamo gare importanti in giro per l'Italia. E quindi questa formazione sportiva mi ha insegnato a lavorare per raggiungere un obiettivo e a vedere il risultato del tuo lavoro nel tempo. Quindi, insomma, la mia formazione sportiva mi ha insegnato molto questo e questo è merito di mio padre che, che mi ha messo sulla bici, ci ha creduto molto e venendo lui da una realtà che prima era contadina, eh, sapeva bene che in un periodo in cui non eravamo, non eravamo obbligati a lavorare la terra, eh, dovevamo però, in qualche modo, prendere un percorso che ci portasse a vedere dei risultati e lo sport chiaramente era perfetto per questo. Tra l'altro, quello che dici è molto interessante, nella vita, adesso questo è proprio uno spunto che per me è molto utile per tanta gente che ci sta ascoltando. A volte noi facciamo tante esperienze, no? Che lì per lì non riusciamo a collocarle in un bene, no? Magari anche dissonanti o comunque non completamente in linea l'uno con l'altro, però come dicevi anche tu, lo sport, c'è tante esperienze che tutte le esperienze che facciamo ci portano poi all'arricchimento che è come se mettessimo in un cassetto tanti strumenti, no? E questi strumenti prima o poi ci tornano utili, dalle piccole e grandi cose, quindi anche queste esperienze che stanno vivendo in casa è un grande insegnamento, quindi sarà uno strumento anche questo qui. Sì, assolutamente. Tutte le esperienze, se sappiamo poi cogliere qual è stato il dato negativo e positivo, possiamo riutilizzarlo dalle esperienze successive per evolvere, no? È importante farle consapevolmente, rendersi conto nel momento di quello che sta accadendo e portare con sé il ricordo di quella cosa, che poi il ricordo diventa il ricordo del ricordo del ricordo, andando avanti. Quindi è importante poi scremare il ricordo, il cuore di quell'esperienza, insomma. Certo, tra l'altro ti svelo un segreto, no, non è un segreto, però anch'io ho avuto un passato da musicista, e tutto è iniziato alle superiori, nel mio caso, che sono andato a sentire degli amici che suonavano a scuola, e io ho preso in mano le bacchette della batteria, questa... Questa è la mano di Kika, che si sta facendo la simpatica a mettere la mano davanti alla telecamera, poi li saluti Kika, e praticamente ho preso il bacchetto, ho suonato una canzone che si chiamava Hey Joe, e da lì ho iniziato a suonare la batteria, ma dal nulla, no? Ed è stata però un'esperienza molto bella, e mi ricordo una cosa della musica che mi ha colpito molto, l'ultimo gruppo che facevamo rock italiano c'era anche il violino, e non sempre il violinista veniva alle prove, però quando non c'era il violino, io mi ricordo che suonando sentivo la linea del violino, c'era una sensazione, cioè quella linea lì, io sentivo ogni singola nota nella mia testa, e la musica è qualcosa che ti entra dentro e vibra e risuona con te, è stata... Quello proprio, guarda, me lo ricordo ancora come una cosa incredibile, che ci fosse se non ci fosse, quel suono lì... Tu ce l'avevi dentro, sì, ce l'avevi dentro quella cosa comunque, no? Sì, sì, ogni nota, ogni nota... Eh sì, è un po' tutto il discorso dell'esperienza, no? Se tu sei consapevole mentre la fai, poi te la riporterai dentro, nel senso che se c'è o non c'è, non cambia, ormai è dentro di te, sei quella cosa, insomma, ed è questo il motivo perché cambiamo, e chi non cambia è perché non si mette in gioco, non fai esperienze nuove, insomma. Certo, e quindi da questa esperienza, poi, questa passione della musica, quale... Sì, poi arriviamo al... Eh, dimmi, dimmi. No, dimmi, dimmi, ti volevo dire che, insomma, dopo questo periodo arriviamo all'università e lì cambia nuovamente tutta la mia vita, le mie esperienze, e quindi la musica che comincio a fare, il genere, e non so tu che cosa mi volevi chiedere, però, mi volevi chiedere cosa stavi dicendo, Andrea? No, quello che è interessante, che mi era venuto nella mente, era, dalla musica, passare alle piante, ci deve essere un qualcosa in mezzo, nel senso che, dietro a uno strumento, dietro a un mixer, dietro a una chitarra, arriviamo poi a parlare di un albero, o di alberi, insomma, di... e quindi lì in mezzo cos'è successo? Cos'è avvenuto? Sì, è successo che praticamente nel periodo universitario, io quindi lascio ciclismo agonistico, perché chiaramente la scelta era o continuare per diventare un professionista del ciclismo, o continuare a studiare. Io scelgo di scendere dalla bicicletta e di andare a studiare, anche perché la realtà del paese cominciavo ormai a starmi stretta, non riuscivo più a esprimermi come volevo, mi sentivo molto soffogante e quindi decido di andare a Roma dal paese e cominciare a studiare. Comincio a studiare una facoltà di ingegneria, di telecomunicazioni, ma lì mi accorgo che era troppa matematica pura, era troppa logica e a me non volevo più qualcosa di più creativo. e dopo un anno quindi lo lascio, vado a lavorare, vado a leggere i contatori del gas, della luce, insomma delle utenze con un gruppo del mio paese, una cooperativa, ci divertivamo molto insomma andare per i paesi a leggere i contatori, ho un bel ricordo, si camminava molto insomma, mi ricordo anche, era quindi sportiva come cosa, e poi mi risegno all'università e vado a scienze del suono, scienze del suono faccio un po' di anni lì, trovo un ambiente bellissimo con un sacco di persone, di ragazzi che mi stimolavano, ci stimolavamo a vicenda per fare musica e creiamo un'etichetta di musica elettronica e quindi comincia il mio approccio alla timbrica della musica, ovvero non più soltanto alla melodia, allo studio della musica di uno strumento, ma alla creazione di una vera e propria timbrica, quindi attraverso la musica elettronica, attraverso i synth, attraverso la generazione digitale del suono e analogica anche, scopro che si possono inventare le timbriche, si possono ascoltare dei suoni che in natura non ci sono e quindi si cominciano a collegare dei nuovi neuroni nella mia testa e mi immergo insomma in questa esperienza e cominciamo a fare eventi, a creare tanta musica elettronica e a far parte di questo nuovo ambiente, una specie di tribù, di persone che creano musica e di persone che la fruiscono dal vivo, attraverso gli eventi. Quindi quando dici creiamo musica è proprio voi creavate il suono. Certo, sì sì, nella musica elettronica si creano i suoni, c'è il sintetizzatore che attraverso delle regole matematiche, quindi attraverso oscillatori, filtri, amplificatori, crea delle timbriche che in natura non esistono in apparenza, ma in realtà esistono perché prendiamo il caso dei passi di una formica o di quello che una formica può dire a un'altra formica e noi non abbiamo i decibel necessari per poterli ascoltare, ma sono suoni che esistono, esistono su un altro piano della banda sonora. Quindi io sono convinto che i suoni che comunque ricreiamo in musica elettronica esistono da qualche parte. Infatti se sentiamo il battito anche delle ali di un'ape o quant'altro, sono suoni che si utilizzano molto in musica elettronica, si rifanno, li sentiamo tutti i giorni, ma in realtà per noi esseri umani la musica è organizzazione di suoni e se passa un'ape non ci sembra musica, ci sembra un rumore, perché non è stato organizzato da noi. È un po' questo il confine tra il rumore e la musica. Noi come genere umano intendiamo musica quando lo organizziamo quel rumore e quindi diventa una melodia, una cosa capibile per noi. Una cosa vera, perché te mi stai creando dei flash, ti condivido questo perché è stato molto bello. Quando si sta molto in natura, io ho passato qualche tempo anche in Africa, in giro, quando sei proprio fuori e poi torni a casa, quindi ritorni magari in aeroporto, in quel momento lì ti accorgi che quello che dicevi tu si inverte. Cioè mentre prima eri nel processo proprio di ascolto dei ruggiti dei leoni o i rumori dell'alba quando la natura si sveglia o in foresta quando c'è il tramonto che le scime urlatrici si esprimono, quella è musica e vai in aeroporto e dici ma che casino c'è qua e lì è proprio qualcosa di strutturale, che prima era il naturale, quindi è proprio così, c'è proprio anche da come sei tu, da dove risuoni, quindi è correttissimo quello che hai detto. Sì ma poi tutti i suoni che noi sentiamo in un aeroporto o in una fabbrica sono suoni suoni ripetitivi che hanno una storia di 100-200 anni, mentre i suoni della natura quando noi ci immergiamo in quei suoni il nostro DNA, la nostra storia nell'evoluzione ne risuona perché è roba con cui ci siamo nati e cresciuti, è dentro di noi, mentre tutti questi altri tipi di suoni molto umani dobbiamo organizzarli perché altrimenti ci danno fastidio e la musica elettronica secondo me è un'espressione di questo, è un cercare di organizzare questi suoni, questo tipo di nuovo mondo in cui facciamo parte da 100-200 anni, per viverlo e capirlo. Tra l'altro appunto per percezione, volevo condividere con te che magari può essere interessante, mi è capitato una volta, mi hanno chiamato a Tel Aviv per andare a conoscere Lucas che è un gorilla, sai quelli maschi, ma giganteschi, giganti, e allora ho avuto l'opportunità di stare insomma a contatto con lui per un po' e di fare una chiacchierata. Allora, tra le altre cose, proprio sulla musica, mi diceva di smettere il rumore metallico, no rumore metallico, e non capivo cos'è il rumore metallico. Parlando con la signora che gestiva proprio tutta la fauna selvatica, esotica, quindi responsabile di tutti quegli animali, mi diceva, è da tanto tempo che io dico a chi fa le pulizie, no, quando vanno a dormire negli ambienti al coperto, di non mettere la musica, che per me dava fastidio la nostra musica al gorilla, e il gorilla proprio ha il rumore metallico, per lui quello che per noi può essere una melodia, la percezione sua era un rumore metallico, e quindi mi ritrovo molto, e anche la natura in questo caso conferma quello che stai dicendo, perché sono le parole di un gorilla, bellissimo. Wow, sì sì sì. E poi dopo tutto questo percorso che ho fatto nel mondo della musica elettronica, nella composizione e fruizione della musica elettronica, diciamo in quel periodo conosco Chica, che lei studiava a Bologna, all'Accademia delle Belle Arti, io invece stavo finendo gli studi musicologia, c'è da dire che Scienze del Suono poi con la facoltà si trasformò in una facoltà quasi totalmente matematica, perché finirono i fondi, e allora disse, oddio, un'altra volta c'è questo spettro della matematica che mi insegue, no, rispetto alla creatività in cui cercavo io, e allora mi trasferisco in un'altra facoltà, che era musicologia rispetto a Scienze del Suono, e finisco gli ultimi anni lì con un po' di crediti presi da di là e altri andati persi, e lì mi laureo. In tutto questo tempo io lavoravo per una multinazionale della tecnologia, vendevo tecnologia in dei supermercati, e fondamentalmente sono stato sempre un appassionato di tecnologia informatica, quindi diciamo che le mie passioni vanno dall'elettronica all'informatica, alla musica, allo sport, insomma ho sperimentato sempre tanto, e le cose che mi sono piaciute me le sono portate sempre appresso, desiderando sempre di più che queste passioni potessero diventare poi la mia vita, quello per cui potevo lavorare il giorno. E quindi arriviamo in questo momento in cui Kika viene a vivere a Roma con me, cominciamo a vivere insieme, e ci rendiamo conto che a Roma ci cominciava a stare stretta, troppo caotica, troppo casino, troppo inquinata. Avevamo passato tutto e due il periodo ormai della giovinezza spensierata che hai tutta questa energia da buttare fuori, il casino ti dà stimoli, insomma. E quindi decidiamo di trasferirci in Salento, in una casa di Kika dei suoi nonni, che lei è salentina, e con un progetto di permacultura, ovvero coltivare la terra, vivere di quello che potevamo coltivare, ospitare persone che volevano condividere questo stile di vita. E nasce il progetto Contra Dalusci, quindi qui nasce il mio primo vero contatto con la terra, nello sporcarmi le mani, anche se per 18 anni io ho vissuto in una realtà di mille anime, in montagna, a mille metri, dove c'era solo natura, a parte le case. Sì, sei tornato alle origini. Sono tornato praticamente alle origini, ho risentito con lo stimolo dove dovevo essere circondato in realtà dalla natura, perché lì mi sentivo bene. E quindi cominciamo questo percorso nel coltivare la terra, nel fare saponi, dentifrici naturali, facciamo molti laboratori, anche nelle scuole, con i più piccoli, spediamo persone che vogliono fare questa esperienza e questo mondo ci circonda per molti anni. E qui, quindi, nasce la passione della natura, ma tutto il mio bagaglio di elettronica, di musica... Spingeva! Spingeva, diceva, vabbè, ma quindi che ci vogliamo fare con tutte queste altre esperienze? E qui nasce questo collegamento con la musica delle piante, in questo periodo, insomma. Tra l'altro è interessante perché avete pubblicato un libro, adesso, Viaggiando nel canto degli alberi, che già il titolo è fantastico. Ti vorrei chiedere, innanzitutto, visto che comunque abbiamo detto che siete un po' nomadi nella vostra ricerca, viaggiando dove, no? Perché vi siete spinti molto lontano. Sì, diciamo che la prima esperienza di novità dopo anni di vita contadina nasce proprio con questo progetto, Viaggiando nel canto degli alberi, ovvero con Kika decidiamo di iniziare a fare dei viaggi all'estero per andare ad ascoltare la musica di determinati alberi e piante e condividere questa musica con le persone che ci seguivano. Quindi facevamo dei crowdfunding, le persone ci finanziavano questi viaggi e poi dopo il viaggio noi tornavamo arricchiti di questa esperienza e decidevamo un po' che cosa volevamo fare, quindi fare un libro, un cd e tutte le volte sono successe cose diverse. Il primo viaggio fu proprio in India, in Nepal. Dimmi, Andrea. Questa è una cosa importantissima, non possiamo sorvolare. Allora, se ho ben capito, questo è un messaggio per dare alla gente. Voi avevate questo desiderio, non avevate i soldi, fate un crowdfunding e praticamente il destino, la sorte, vi dà le risorse che non avete per fare quello che vi piace fare, per sviluppare nuovi progetti e creare, no? Un libro può essere... E' stato così, no? Quindi alla fine molte... Cioè noi ci limitiamo, no? Quella cosa lì non posso farla, perché qui stiamo parlando proprio di coltivare i sogni, no? C'è un qualcosa che tu senti e che però dici non riesco a farlo, ma se tu segui quel fluire, quell'intuizione che avete avuto, la vita va dato poi tutto, è bellissimo. Sì, diciamo che nel tempo abbiamo imparato a creare le condizioni per poter sviluppare un progetto, i sogni, la propria vita. Quindi il crowdfunding è stato creare una condizione, ovvero sette anni fa, diciamo in Italia il crowdfunding era visto ancora come sei un poraccio, stai chiedendo le mosine alle persone. Io me lo ricordo bene ancora questo concetto, mentre in America erano almeno già dieci anni che era esploso. C'era Kickstarter, Indiegogo, che finanziavano progetti incredibili, che anche io finanziavo, vedevo e compravo tecnologie assurde, crowdfunding, che ancora non uscivano nel mercato solo perché avevo capito che era un metodo molto democratico, bello, per far creare cose a persone che altrimenti non sarebbero, non si sarebbero manifestate nella realtà, sarebbero rimaste nel mondo delle idee. E quindi cominciai a informarmi sul crowdfunding e capì che era una cosa fantastica perché senza il crowdfunding prima c'era solo una strada, buzzare ad una banca e chiedergli che mi dai soldi, voglio fare questo? E la banca ti diceva non ti li do perché che garanzia mi dai, hai vent'anni, sei che vuoi. Questo era il periodo. Oppure dovevi attingere ad altri fondi, se avevi la tua famiglia che ti poteva aiutare. Il crowdfunding era questo meccanismo e quindi ti permetteva di esporre la tua idea al mondo e dire io ho questa voglia, il progetto è questo, te lo faccio vedere, ti darò cosa, che è questa cosa qui. Noi per il viaggio in Indianapolis abbiamo detto ok, voi avete voglia di fare questo viaggio con noi, di permetterci di fare questo viaggio, ok, noi faremo questo e in cambio vi daremo parte della nostra esperienza, vi porteremo con noi sui social e al ritorno vi daremo un cd musicale, scritto da questi alberi e piante. E poi invece successe che al ritorno dal viaggio facemmo proprio un libro, perché l'esperienza fu talmente importante che non potevamo metterla, volevamo fissarla sul libro e quindi facciamo una seconda campagna di crowdfunding dove le persone preacquistebbero, che stavamo scrivendo e quindi ci chiedero modo di stamparlo, almeno parte del lavoro. Ah, Kika mi sta ricordando che nel viaggio di India e Nepal poi come scambio era portargli anche delle pashmine indiane, delle spezie, quindi le offerte votive sul gange, c'erano vari step per, insomma, per contribuire al viaggio. C'è stata quindi anche una creatività anche nel donare poi alle persone un pezzo di questo viaggio che è bellissimo. Eh sì, dobbiamo stimolare le persone, no? E l'India è piena di stimoli, quindi c'erano tante cose che potevamo condividere con le persone. E in questo viaggio qual è un ricordo di una pianta particolare, perché chissà che piante sacre avete visto, che bellezza. Sì, allora, diciamo che l'impatto con l'India è sempre un impatto molto importante, è una cosa, è un impatto sconvolgente, di sconvolge. È un mondo parallelo, insomma, siamo nel 2020 ma in India è ancora un mondo parallelo, per quanto la globalizzazione sia ormai galoppante ovunque. E la cosa che, insomma, sul fatto degli alberi che mi è rimasta più impressa è che in India e Nepal, quindi, e anche in alcune altre regioni dell'Asia, questi alberi erano trattati come delle divinità. E diciamo la nostra missione diventò un po' questa qui, ovvero di ricordare all'Occidente di cosa succedeva tanti anni fa anche in Occidente, ovvero che la natura era considerata come la madre e il padre, un regno che ci nutre, un regno che ci dà la possibilità di farla umana. Ed in India questa cosa era ancora viva, perché si fanno delle feste dove si addobbano gli alberi, andavamo a trovare dei baba che ci facevano vedere delle cerimonie in cui si offriva del cibo all'albero. Vedevamo questi ficus addobbati in festa, ogni determinati tipi di ficus come quelli religiosa o i bengalensis sono per loro la rappresentazione di determinate energie, determinate divinità. E questo ci ha fatto capire come un'eccessiva antropomorfizzazione ci porta poi a renderci l'unica divinità e a non farci vedere in realtà che siamo in mezzo alla vita. La vita porterà a distinguere quella forma di vita inutile che non collabora. Quindi l'India e gli alberi, di come erano trattati lì, mi ha risvegliato questo fatto. E infatti noi nel libro scriviamo molto questo concetto raccontato. Contiamo come loro trattano gli alberi, come ci sia un baba sotto ogni albero ritenuto importante a rispetto di quell'albero a cura. Per noi è stato sconvolgente, infatti avevamo molto timore di toccare questi alberi, di mettergli sensori per ascoltarne la musica. Il primo passo per rompere questa cosa è stato difficile. Mi ricordo il primo ficus religiosa. Ci abbiamo messo qualche giorno prima di cominciare a fare registrazioni, proprio perché l'India prima di tutto si sconvolge. E poi non sapevamo questi babba se ci davano bastonate o erano contenti che noi stavamo lì con questa tecnologia strana. E quindi il primo ricordo che ho è quello di un ashram a Rishikesh al nord dell'India, che è la capitale dello yoga, quindi un'atmosfera molto rilassata, molto bella. Andiamo in questo ashram dove pernottavamo e c'erano un'incredibile quantità di ficus enormi, religiosa, e chiediamo a quelli dell'ashram se potevamo fare questa cosa. E loro quasi non capivano, dicendo ma perché mi chiedi il permesso? Cioè, ma qua c'è, gli alberi, gli alberi sono degli alberi, nel senso non è che mi devi chiedere il permesso per andare a abbracciare un albero a fargli quello che vuoi. E lì il mio cervello fece un parallelismo. Immaginai a Piazza San Pietro o comunque in parti molto antropomorfizzate dell'Occidente, se io fossi andato in questi posti con dei sensori, così attaccarmi ad alberi che erano importanti o vicino a quel tipo di religioni nostre. Avrei avuto in realtà, dovuto chiedere il permesso alla prefettura, alle guardie, stare attento perché poteva essere quasi che io stessi mettendo una bomba, vado con dei sensori a mettere delle cose in un luogo di culto. Quindi feci questo parallelismo. E mi sono accorto che in India era molto più libero questo pensiero. Vuoi andare lì o da quell'albero? Non te lo impedisce nessuno. Puoi andarci e vai a registrare la musica. Quindi dopo un po' ci rendemmo conto che le persone e i baba che erano lì intorno erano enormemente affascinati da quello che facevamo e ogni volta che registravamo un albero c'era una folla di gente intorno a noi che voleva sapere cosa stavamo facendo e quando gli spiegavamo che cosa stavamo facendo e gli facevamo sentire la musica la gente si commoveva, soprattutto i baba, gli uscivano le lacrime perché per loro era una cosa troppo seria, troppo importante poter ascoltare e poter rendersi conto della vita di un essere vivente che loro rispettavano come fosse la loro madre e il loro padre potesse comunicare in un altro modo. Stavano sentendo un'altra cosa rispetto a quello che sentivano tutti i giorni insomma. Per loro era importante e quindi ci accorgemmo di questo, che avevamo il via libera nel condividere con loro questa esperienza e che eravamo rispettati per questa cosa. Tra l'altro, guarda, volevo dirti che abbiamo un paio di cose in comune nel senso che come ci siamo conosciuti con Edo? A parte che è la prima volta che ci vediamo, anche se attraverso uno schermo, ma è proprio il crowdfunding, quando ho visto la vostra campagna per creare Plants Play, è stato lì, è stata la mia prima campagna e ho detto ma intanto è una figata assurda e quindi dico perché non aiutare questi ragazzi? Poi insomma siamo coetanei e allora ho detto facciamo questo crowdfunding e ti dico che una delle esperienze che ho avuto con, con Plants Play, è stato in montagna, in appennino, con l'olmo per antico d'Italia. Quindi sono arrivato da questo olmo, ho messo i sensori, una mazza, cioè non cantava nulla. Però la gente ha iniziato ad avvicinarsi, a dire cosa stai facendo qua. Allora io un pochino anche mi imbarazzo, ho detto no, ho questo strumento che poi dopo lo spiegherai meglio tu, ma traduce gli impulsi elettrici delle piante in suono. In questo momento poi c'è una corteccia, insomma parliamo di un albero di 400 anni, magari non riesce a prendere, non riesce a captare. Allora è successo qualcosa di molto particolare, che il signore che abita praticamente di fronte a questo albero, praticamente la famiglia, c'era un signore e una coppia, hanno detto ma io tiro sempre sulle foglie, io sono sempre a contatto, gli voglio bene. E hanno tutti insieme, abbiamo iniziato ad abbracciare l'albero, non so com'è nata, perché era gente che io non conoscevo e da lì ha iniziato a cantare. Dall'abbraccio. Sì, queste sono esperienze incredibili, che attraverso questo strumento puoi rendere consapevoli. Ce ne sono successe tante. Noi in un periodo facevamo molti seminari, ci invitavano molte conferenze a parlare di questa cosa, di queste novità, e penso che le piante rimanessero in silenzio, quindi non ci fossero variazioni elettriche in quel momento, fino a determinate i momenti. Uno dei momenti più, come dire, più emozionanti che sono successi è un giorno che stavamo in una specie di bar, un ristorante, facevamo una performance dove suonavano delle piante mentre le persone mangiavano a tema e arrivò uno dei proprietari di questo bar che non capiva bene che stava succedendo e disse, ma cambiate musica, ma sta musica non sta piacendo alle persone. E quindi in quel momento le piante si fermarono completamente di suonare, ci fu proprio quindi una reazione, non c'erano più impulsi elettrici, diventò il silenzio. E io ero lì impanicato, facendo addio, perché non suonano, perché non suonano, controllavo gli elettrici se fosse rotto qualcosa e non suonavano. E dopo un po' arrivò un ragazzo che si era fatto 100 km per venire a vedere la performance e nel momento in cui viene lui le piante riniziano a suonare. Questa è una delle cose più belle, dei ricordi più belli che ho su questo tipo di esperienza. C'erano state anche altre esperienze in cui durante le conferenze le piante non suonavano, ne provavo alcune e non suonavano. Quindi io spiegavo che queste cose succedono, ovvero le piante potrebbero in qualsiasi momento decidere di non avere variazioni elettriche per motivi che io posso intuire attraverso la mia mente umana. Ma le piante vivono totalmente in un altro mondo e magari delle volte semplicemente vogliono interagire in quel modo perché ci danno degli stimoli. E questa volta durante tutta la conferenza la pianta non suonava, soltanto alla fine esatta della conferenza quando abbiamo detto ok, grazie a tutti, ce ne andiamo. Mentre battevamo le mani, queste hanno cominciato e non hanno smesso più. Quindi succedono un sacco di cose interessanti anche quando insomma quando le tocchi ti rendi conto di come cambia la musica. E diciamo è un modo immediato attraverso la musica per rendersi conto di cose che invece sono celate. Tra l'altro guarda Edo, ti faccio vedere perché visto che sono appassionato anch'io del... Allora, guarda, qui abbiamo questa bellissima pianta e adesso volevo condividere, visto che ho poca batteria nel cellulare però ne ho ancora, proprio entriamo proprio nel vivo. Questa è l'applicazione e questa è la musica generata da questa pianta qui. Eh sì, vedi, in pratica ci sono questi due sensori attaccati al dispositivo che è praticamente questo qui che ho al collo e il dispositivo quindi rileva la variazione di impedenza elettrica delle piante e la converte con un algoritmo statistico in delle note musicali. Queste note musicali vengono inviate poi in bluetooth all'app che abbiamo realizzato e sull'app tu puoi scegliere qual è lo strumento che può suonare quindi questa melodia in tempo reale e quindi diciamo che la pianta diventa un compositore, scrive questo spartito in tempo reale, il telefono diventa un esecutore quindi le suona e con le istruzioni che scegli tu. Quindi diciamo l'essere umano insieme alla pianta è un po' un direttore d'orchestra perché sceglie quali sono le condizioni per far generare musica alla pianta e poi la cosa interessante è che la pianta essendo un essere vivente collegato all'ambiente che la circonda ha tantissimi sensi per fare continue scansioni dell'ambiente ed è estremamente collegata a quello che succede intorno a lei quindi la musica è un po' co-creata da tutto quello che sta intorno è come se la pianta fosse un grande sensore ambientale che dà delle risposte attraverso il suo metabolismo e Plants Play praticamente è stato un altro frutto di un crowdfunding quindi facciamo questa campagna come hai detto per finanziare la prima produzione, i primi 200 pezzi ma prima di questa cosa avevamo bisogno di un grande fondo l'investimento per poter fare ricerca e sviluppo, al progetto hanno lavorato molte persone, diciamo io e Kika siamo stati fondatori, ideatori, diciamo che Plants Play è uscito fuori nella materia come io ce l'avevo nella mente e per realizzare questo ho avuto bisogno di tante persone come Borgia, due ingegneri informatici Marco e Andrea, ci sono stati molti mesi di scouting ovvero ho dovuto cercare prima di tutto se c'erano nel mondo persone in grado di fare un progetto di questo tipo, le ho trovate tutte in Italia e quindi abbiamo lavorato quasi per un anno alla realizzazione del progetto quindi c'è stata tutta questa fase di ricerca e sviluppo dove abbiamo lavorato con l'ingegnere elettronico alla parte fisica del dispositivo con un carissimo amico Francesco Panella al design perché chiaramente la cosa che piaceva a me era quello di farlo diventare un ciondolo ovvero un qualcosa che potevi portare sempre con te, molto piccolo, maneggevole anche esteticamente, molto molto bello beh diciamo che è uno dei pochi strumenti elettronici fatto con un contenitore in legno questa cosa è altamente improduttiva dal punto di vista del mio PIL, del mio portafoglio perché costa tantissimo fare un contenitore in legno come questo qui rispetto alla plastica facendoli in plastica mi sarei lavato le mani, avrei pagato 10 centesimi a contenitore mentre però avrei continuato un percorso produttivo che a me non piace, quello di forza spendere di meno ma inquinare di più quindi ho voluto spendere di più, guadagnarci di meno ma far lavorare degli artigiani su questo dispositivo questa viene fatta, la prima parte viene fatto con delle macchine CNC e poi la seconda parte viene tutto rifinito a mano il dispositivo che è il legno di Larici da un'azienda salentina però chiaramente facendoli in legno prima di tutto passa un messaggio diverso e nei fatti poi andiamo a vedere che il legno è sostenibile se viene fatto in un certo modo è meglio della plastica quindi diciamo che il dispositivo nasce da un tipo di logica anche di produzione di questo tipo e poi arriviamo quindi a fatta la ricerca e sviluppo e qui devo dire che non era scontato riuscissimo ad arrivare a questo risultato perché è stato un risultato grandioso ovvero un dispositivo di questo tipo sul mercato era ancora grande così così grosso dispositivi di biofeedback e non avevano le app di riferimento non erano bluetooth, non erano fatti in un certo modo quindi la nostra sfida, insomma ci siamo buttati in qualcosa che non era sicuro riuscissimo a trasformare in realtà e c'è stata tanta paura soprattutto da parte mia perché abbiamo investito tantissimi soldi con Kika per arrivare a questo ma prima di tutto a farlo e poi a venderlo quindi io ho passato parecchi mesi dove la notte mi svegliavo di soprassalto con i pensieri della burocrazia italiana tra IMS, tra Bari F24 che poi la burocrazia ammazzava completamente il processo creativo la cosa bella del progetto e quindi è stata una mediazione continua tra l'idea e la realtà la realtà dà sempre molti schiaffi e poi ti devi, diciamo che la, come dire quello che ho sperimentato io è che per trasformare una propria idea nella realtà la vera gara, la vera difficoltà è il trasformare tutti gli errori, tutti gli ostacoli mediarli per farli diventare poi una cosa una cosa che si avvicina il più possibile a quello che avevi in mente sì, tra l'altro adesso questo perché adesso Metal Bell è bellissimo perché puoi cambiare lo strumento sì, lì c'è tutto quanto la mia esperienza di musica elettronica quelli sono tutti i suoni che ho campionato io quelli elettronici l'ho creato io e poi li abbiamo caricati nell'app quindi diciamo questa c'è grande varietà di strumenti che derivano dal mio passato di musica elettronica quindi diciamo che in questo strumento come dicevamo all'inizio c'è molto di tutte le mie esperienze di vita che poi si sono condensate in quel momento in questo strumento e tra l'altro sta cambiando notevolmente la frequenza, c'è proprio cambia l'impulso rispetto all'inizio insomma è viva e anche lei vuole dirci le sue cose e ti volevo chiedere una cosa importante perché tu sei partito con l'idea di innanzitutto il messaggio che stai dando è molto bello che mi ci ritrovo in pieno che è quello dei sogni nel senso che quando tu hai un sogno o comunque un progetto e lo vuoi portare nella realtà dalla mia esperienza devi condividerlo cioè da soli difficilmente cioè ci viene richiesto oltre al coraggio di seguirlo fino in fondo anche il coraggio di mettere in mano il nostro sogno alle persone a condividerlo che ci sono tanta gente che dirà ma cos'è questa cavolata della musica delle piante fino a trovare quelle persone che invece ci credono e ti aiutano quindi c'è anche un grande proprio forza di volontà nell'andare avanti e nel condividere perché comunque come dicevi te ci sono tante persone che poi hanno contribuito sì, sì diciamo che ogni idea nostra scoperta almeno per quanto mi riguarda se non la condividiamo con gli altri perde la sua forza perde la sua energia diventa un pensiero o un'azione che poi si riperderà nel nulla e andrà nella testa di qualcun altro che avrà la possibilità magari di farlo meglio di te perché io sono convinto che i pensieri è quello che ci viene insomma da voler fare o quant'altro non li creiamo del tutto noi vengono li creiamo come magari razza umana oppure come entità ancora più grandi di consapevolezze e poi quando arrivano a determinate persone alcune persone hanno magari la voglia l'esperienza passata il coraggio di poterla manifestare nella materia e altre invece non è quello il pensiero o quella la cosa che gli serviva e quindi passa da mente a mente fino a quando si manifesta però è una cosa collettiva come dire se poi non la manifesti e non la condividi non avvita quella cosa e quindi il crowdfunding ci è servito proprio per capire questa cosa se un'idea un progetto ha voglia di esistere le strade le troverà da solo tu basta che gli dai la possibilità di potersi esprimere a quell'idea crei delle condizioni il crowdfunding capì che era una condizione perfetta per poter vedere se quella idea poteva nascere nella materia e poteva fare del bene o del male che sia all'umanità e tra l'altro volevo chiederti questo questa avventura no? che ti ha portato a fondare una vera e propria azienda possiamo dire da un sogno siamo partiti dalla chiesa e tutto questo percorso dalla bicicletta nella determinazione alla sperimentazione all'università al sentire anche un disagio che ti ha riportato alla natura poi dopo cioè per far capire proprio come è un processo che non direi lungo ma comunque è un processo di crescita no? anche spirituale perché comunque dietro quello che tu hai al collo c'è una vita cioè rappresenta per voi penso che rappresenti come un figlio penso no? sì sì esattamente e sì è un qualcosa che abbiamo cresciuto nutrito e adesso sta andando sta camminando da solo in giro per il mondo e diciamo che Plansplay è stata proprio questa cosa per noi ovvero far nascere un'idea nutrirla e poi questa idea se come dire se era un'idea che anche gli altri volevano abbracciare quindi doveva camminare da sola e adesso fa questo io mi occupo principalmente ormai della produzione quindi di tutta la parte aziendale della burocrazia della progettazione di prendere i pezzi di far funzionare il team che poi dà vita a tutto questo insomma e poi chi ne soffruisce è tutto il resto del mondo che può creare consapevolezze grazie a questo strumento può creare benessere può soffruirne in tutti i modi che vuoi noi ne abbiamo sperimentati tanti di modi per soffruire di questo tipo di esperienza e vi facciamo vedere insomma quello è il modo più bizzarro che hai visto di utilizzo che non ti aspettavi oddio c'è un modo assurdo praticamente una volta un un signore chiese all'ingegnere che insomma che fa parte del progetto se poteva fare un dispositivo simile o se addirittura con questo si potesse capire l'andamento della borsa attraverso le piante per poi scommettere in borsa insomma nei mercati azionari quella è stata una delle cose più strane che ho mai sentito insomma se attraverso la consapevolezza delle piante e alla traduzione di quella cosa con questo strumento si potesse arrivare a predire l'andamento delle borse della finanza questo è stato un utilizzo molto materiale e consumistico insomma di questo tipo di esperienza poi ce ne sono tante altre insomma tante persone lo utilizzano per per stare per avere un senso in più disponibile per senso intendo proprio senso fisico in più per poter relazionarsi con le persone per poter creare benessere e creare consapevolezze perché tanti educatori ambientali attraverso la musica della piante possono veicolare il messaggio di come la piante interagisca come sia viva come sia una sentinella di tutto quello che è intorno a lei di anche come ci comportiamo noi insomma noi esseri umani nei loro confronti poi che puoi sentire dei cambiamenti musicali di melodie di stato attraverso il cambiamento delle situazioni insomma poi di esperienze sono tante fino a quelle delle performance in cui i musicisti e artisti possono utilizzarlo per creare le loro le loro attività che creano chiaramente sempre consapevolezze perché poi il fine dell'arte della musica o quant'altro è sempre cercare di mandare un'emozione di trasmetterla certo e penso che ci siate riusciti perché insomma anche io quando anche per fare la meditazione ad esempio meditare perché si è bello anche con proprio la pianta si meditare con le piante è molto bello perché farsi guidare e quindi diciamo come dire svuotare la mente concentrarsi sul respiro e poi farsi guidare da questa musica è veramente è veramente bello anche perché dobbiamo dire non è una musica a cui noi siamo abituati ovvero una musica molto ripetitiva che segue uno schema diciamo che nel mercato della musica si seguono degli schemi perché si sa che se dopo il il verso faccio un bridge di tot secondi e poi sparo il ritornello il mio cervello in quel bridge si prepara per rilasciare dopamina che che praticamente mi farà piacere la canzone c'è tutto chiaramente ormai uno studio per creare le canzoni che poi diventeranno delle hit mentre con le piante no non abbiamo ripetizione abbiamo un'estrema casualità che però è una casualità nascosta in parte perché quelle reazioni fisiche e chimiche avvengono per determinati motivi che la scienza negli ultimi vent'anni sta studiando molto bene come c'è tutta la branca della neurobiologia del professor Mancuso e quindi attraverso la musica possiamo seguire questo flusso che non è mai ripetitivo ma è mutevole nel tempo a seconda di quello che succede e quindi ci può guidare in uno stato di gran rilassatezza insomma e benessere anche che non è scontato perché molte persone delle volte mi hanno detto mi sta dando fastidio sta musica per favore toglila insomma in ambienti magari non predisposti a questo tipo di ascolto come può essere un bar dove c'è chiunque o in in un centro commerciale per dire una volta mi dissero potrei metterla nel nel mio negozio e io gli dissi allora tu nel tuo negozio devi stimolare le persone a comprare questa non è musica che stimola le persone a comprare questa è musica che stimola le persone a andare in uno stato rilassato dove non dove si basta da sola insomma perché non è musica ripetitiva non è musica che sta lì a dire alla dopamina di arrivare con la serotonina è musica che ti mantiene in un certo stato e quindi gli dissi guarda magari mettilo quando la vuoi cacciare le persone quando le vuoi mandare a casa a rilassarsi non quando vuoi fare soldi con questo strumento no guarda è stato ti ringrazio tanto per questa esperienza questo incontro perché ci hai dato l'opportunità di vedere come nel tuo percorso di vita hai realizzato questo sogno che è arrivato proprio fuori anche dal da quello che tu magari ti come si dice in italiano ti prefì non so come si dice comunque ti prefigesti prefigesti e invece dopo ti ha portato a a questa bellissima avventura quindi guarda ti ringrazio molto non so se vogliamo introdurre per un secondo anche Kika se vuoi venire se no se è da fare se è in giro è qui vicino Kika vuoi venire a a presentarti a dire che stai facendo tu in questo periodo hai preso una carta vieni vieni sì dai adesso Kika viene si presenta un attimo e vi spiega anche che sta facendo perché Kika adesso è nel bel mezzo di un bellissimo nuovo progetto che magari lei vi spiegherà vieni vieni devi parlare qui ciao siamo al contrario sì siamo al contrario è una non posso sentire anche io il microfono è lì ok ciao ciao Kika non ci siamo mai conosciuti ma eccoci qua molto piacere io in questo momento mi stavo facendo una carta degli elfi ah sì le prime carte che ho comprato nella mia vita ogni tanto le consulto e che carta è venuta cosa che carta è venuta fuori è venuta fuori una carta elfica che si chiama Lili come sta le ricamare bella se voi ti leggo il messaggio brevissimo sì volentieri può interessare sì allora dice ieri ho lasciato che la voce del mio spirito ribelle divenisse il vento gelido che mi urlava nella solitudine oggi ho lasciato che il mio cuore ascoltasse la voce dell'anima che parla d'amore ma che bello e poi c'è tutto il resto che però è lunghissimo allora una domanda importantissima Kika sei pronta sì come ti ha conquistato Edo è è stato il contrario beh ci siamo ci siamo conquistati a vicenda diciamo non so se ti ha già raccontato ci siamo conosciuti in internet ah no ho raccontato che che stavamo che tu stavi a Bologna e io stavo a Roma e poi ci siamo ci siamo andati ad abitare insieme a Roma ma non sono entrato nella nella nostra storia d'amore allora te lo racconto brevemente ci siamo conosciuti su MySpace che era un social che si usava all'epoca non so se prima di Facebook era uno dei primi social dove mettevi insomma le due cose era un social carino dove praticamente ognuno aveva la sua pagina che era personalizzabile con uno sfondo con della musica e ci siamo conosciuti là e su tramite un suo amico che poi è diventato un amico in comune lui mi fece complimenti per lo sfondo che avevo mi ricordo ancora sta cosa che mi scrisse che avevo lo sfondo più flashoso di tutta MySpace e e dalla passiamo a parlare su Messenger parlavamo solo di argomenti spirituali in quel periodo quindi sentivamo sì una risonanza animica molto forte ma a me lui sinceramente dalle foto non piaceva mi mandava delle foto in cui non era troppo carino però comunque mi risonava tanto come amico e poi abbiamo deciso di incontrarci perché c'era questo desiderio di conoscersi e andammo a vedere insieme un concerto di Enaudi a Bologna lui venne a trovarmi e praticamente quando l'ho visto in stazione ho detto wow però in realtà è bello questo meglio che in foto sì ho scoperto che era molto meglio dal vivo che dalle foto e con la giornata ci siamo innamorati quindi la musica insomma anche lì c'è la musica che fa parte del vostro ingrediente uno degli ingredienti principali della vostra vita sì assolutamente sì io avevo una pagina musicale su MySpace e lei una pagina più artistica insomma che lei si è sempre occupata di di arti figurative sì di dipingere e anche adesso insomma fa quello e tra l'altro ho visto anche su Instagram avevo visto che cosa sì è un progetto non so se Edu già vi ha raccontato che si chiama Angelic Krembovart che cosmica lo porto avanti da due anni più o meno e mi occupo di fare diverse cose ho iniziato facendo i ritratti su commissione che io chiamo ritratti luminosi perché quello che faccio è connettermi all'essenza della persona alla sua anima e cercare di portare fuori sul foglio quello che è la luce della persona in modo che la persona poi guardando il ritratto possa vedere la sua bellezza molto spesso le persone non riescono a vedere la bellezza né interiore né esteriore che le caratterizza quindi hanno bisogno di qualcuno che gliela faccia vedere che sia in grado di mostrargliela e questo è il lavoro che faccio con i ritratti poi ne faccio altri che sono che chiamo fioriti che sono invece un omaggio non nascono su commissione ma sono un dono che io faccio ad alcune persone che ritengo fiorite ovvero che sono delle persone che hanno già attuato nella loro vita un percorso di fioritura ovvero che manifestano quelli che sono i talenti della loro anima e quindi diventano di ispirazione per me e anche per altre persone mi piace far conoscerli e poi c'è tutto un filone sul femminile che sto portando avanti e che mi piace molto dai che bello che bello siete una coppia super creativa e bello mi piace molto tra l'altro poi dopo in descrizione metteremo tutti i vostri riferimenti così insomma per tutti coloro che vogliono seguirvi hanno insomma una possibilità grazie io vi ringrazio tantissimo per il vostro tempo veramente vi invito se venite quassù dalle nostre zone io a Edo glielo dissi poi sa la vita corriamo ma dove corriamo cavolo quindi prima o poi ci vediamo molto guarda vi aspetto o se no vengo a trovarvi io chi lo sa o comunque insomma è stato comunque è bello condividere la vostra passione i vostri sogni e dare questo messaggio positivo che alla fine insomma ce la si può fare e la vostra unione la musica la natura insomma ci avete dato proprio una bellissima energia grazie a voi grazie a te Andrea grazie a te che ci hai dato questa possibilità insomma di raccontarci un abbraccione grazie a voi grazie un abbraccio grazie a te